Davide Sannazzaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui per raccontarci la fiera piemontese dell'editoria che si svolge ogni anno a Cavalermaggiore. Ogni anno abbiamo modo di curiosare nel calendario degli appuntamenti sempre molto interessanti. Tra l'altro con un'anteprima che è andata molto bene, Davide Sannazzaro. Sì, donatela di Cesare, un incontro veramente di altissimo valore, un incontro sul tema dei gritti. Io mi sono portato a casa veramente degli spunti importanti, soprattutto da sindaco, sul tema di come il popolo italiano si muove, sul tema dell'importanza dell'informazione, e l'importanza del continuare a tenere un legame con quello che è il nostro territorio. Quindi è una serata veramente molto formativa. E poi il concetto della comunità interpretativa su cui si dovrebbe veramente ragionare molto. Ma adesso andiamo a incontrare gli altri appuntamenti di questa fiera piemontese. Quest'anno si contraddistingue per che cosa, Davide Sannazzaro? Ma allora, quest'anno la verità è che soprattutto è stato il primo anno con cui abbiamo allargato una nuova prologo fatta di giovani che ci ha dato un contributo molto molto importante. Domani mercoledì sera abbiamo un evento anche qui di anteprima con Giancarlo Caselli, l'ex magistrato a Marene, che conclude un progetto bellissimo della biblioteca di Marene, che è intitolata Falcone e Borsellino, che quest'estate ha fatto un progetto bellissimo leggendo dei libri con 42 ragazzi che poi sono andati a Palermo, accompagnati dai bibliotecari, dal sindaco di Marene e da altri volontari, a visitare proprio i luoghi di Falcone e Borsellino. Concludere questo progetto mercoledì alle ore 18 al teatro di Marene proprio con Giancarlo Caselli mi sembra di aver messo la ciliegina sulla torta, un progetto secondo me veramente sulla legalità veramente di grande respiro. E veniamo al 3 dicembre prossimo perché si inaugurerà la fiera e da qui comincia l'appuntamento tradizionale. Sì, 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 il 3 dicembre prossimo inauguriamo al mattino e facciamo collaboratori per i bambini, alla sera, sabato sera, evento clou con Mercalli, e nel pomeriggio altri appuntamenti importanti come sulla presentazione tra cui il libro di Mai Più Sole e altri libri molto importanti. La domenica è il solito momento per noi con dati per leggere. Abbiamo voluto mettere anche la consegna delle costituzioni ai diciottenni con l'ex presidente della provincia di Cuneo, Federico Borgna. Quanti sono, Davide Sannazzaro, i diciottenni del tuo comune di Cavadale Maggiore? Una sessantina. Noi uniamo sempre il momento della Costituzione a un personaggio. Lo scorso anno era venuto il vaticanista della stampa Domenico Agasso a raccontare un libro di dialogo col Papa nel post-pandemia. Domenico Agasso è di Carmagnola, quindi è molto vicino a noi. Quest'anno viene Federico Borgna, ex presidente della provincia, per esempio la provincia speciale, perché è un non vedente, ma nello stesso tempo penso che sia una delle persone che abbia una capacità di vision sul territorio più grande di tutti noi. E poi ha caratterizzato veramente il suo mandato. Tra l'altro abbiamo scoperto che è protagonista a suo malgrado di un romanzo pubblicato recentemente. Ma lasciamo perdere queste cose e ritorniamo nella fiera piemontese dell'editoria che si svolgerà come sempre a Cavallero Maggiore e avremo anche la possibilità di passeggiare tra gli stand con gli editori. Questo è un appuntamento importante. Assolutamente sì, come sempre, dal sabato mattina alla domenica nel tardo pomeriggio, nei due giorni, tantissimi editori, una ventina come sempre del nord Italia, piccole e grandi editorie, un momento per fare i primi acquisti per Natale, come sempre, un momento per le famiglie per poter comprare libri insieme ai propri figli. Sarà nuovamente un momento anche per rincontrare tutto un mondo dell'editoria che continua ad andare avanti e lottare in questa realtà difficile. Quindi siamo molto felici di dare loro questa occasione. Ed è un'occasione importante perché il comune di Cavallero Maggiore crede in questo appuntamento da quanti anni, Davide Sannazzaro? Siamo a 29, quasi a 30. Quindi quasi il tempo del Salone Internazionale del Libro. È nata grazie ad alcuni amici che si sono messi insieme per raccontare di libri e così di strada ne ha fatto. Sì, nasce dalla biblioteca. Nasce da quei montari della biblioteca. Tra l'altro mi fa sorridere perché l'attuale mio vice sindaco, assessore del bilancio, era la volontaria che curava i primi bilanci della prima fiera del Libro quando era già. Che cosa è cambiata da quella fiera ad oggi, Davide Sannazzaro? Ma è cambiata che allora si poggiava solamente sui volontari, mentre adesso c'è anche un'importante fetta comunale che ne fa parte. È cambiata il fatto che adesso insieme abbiamo da questi... È cambiata che si siamo aperti molto per il territorio. Oltre alla fiera di due giorni che vediamo adesso, abbiamo un grandissimo lavoro sulle scuole elementari e medie di Cavalermaggiore e di Marene, sulle scuole elementari di Monasteroli Savigliano e sulle scuole superiori di Racconigi e di Savigliano. Tanto che per esempio il Crametta di Savigliano è venuto a cercarci per chiederci una partnership e insieme porteremo la Mannocchi a febbraio a incontrare i ragazzi. Ma non solo, ma regaliamo più di mille libri ai ragazzi e quindi portiamo veramente il libro tra le loro mani perché vogliamo che preparino bene l'incontro con l'autore e che questo diventi un momento speciale. E poi è anche bella una cosa perché non è che ci si deve sempre spostare per andare nella grande città. Il piccolo centro ha la possibilità di esprimersi, esprimersi ad alto livello come il caso per esempio della fiera piemontese dell'editoria con dei nomi che possono essere importanti come Donatella di Cesare, Giancarlo Caselli ma molti altri nomi che fanno il costrutto, fanno la sostanza di un progetto del genere. Sì, 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 assolutamente. Noi crediamo molto in questo che in più Cramaggior ha questa potenza di essere baricentrico rispetto a tante grandi città, rispetto a territori diversi. Quindi questo, anche se siamo un paese più piccolo rispetto a città più importanti come Savigliano, Racconigi, Saluzzo, riusciamo comunque a ritagnarsi il nostro spazio e come ho detto a essere anche a regalare delle cose e dei momenti e degli incontri importanti sui territori vicini. A me piace l'idea di aprire la mente soprattutto delle gente, nel senso di stupire e aprire la mente. Ed è importante aprire la mente, ma Davide Sannazzaro le collaborazioni continuano con le tele dei Savoia, presumo, con cuneiforme, quindi c'è una collaborazione sempre più estesa. Sì, 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 ma sì, questo territorio è un territorio che noi chiamiamo della terra di mezzo. O si mette insieme, o lavora insieme, o viene schiacciato perché da mondi molto più forti, da realtà che hanno una loro attrettività molto più facilmente, se penso alla Langa, se penso alla montagna, noi dobbiamo lavorare insieme. L'esempio di Terre di Savoia che unisce 36 comuni, cuneiforme, di cui noi siamo il comune più piccolo, ma ci onora essere all'interno di questa rete perché vuol dire che ci siamo ritagliati un nostro spazio, ma soprattutto dietro c'è una regia fantastica di Marco Pautasso, di Paola Galletto, di Maria Giulia Brizio, di Federico Viorio, che sono persone di Roberta Siano, uno staff di altissimo livello che oltre a occuparsi di Fiera del Libro di Torino dedica del tempo e dà delle possibilità alle nostre zone di poter creare cultura e avvicinare la gente alla lettura. E non possiamo chiudere questo collegamento senza chiedere a Davide Sannazzaro a proposito della Fiera Piemontese dell'Editoria, parliamo di libri, ma qual è il libro che ti sta facendo compagnia in questi giorni? Allora, un libro che mi ha consigliato una mia ex direttrice, io lavoro in carcere, che è Le Radici del Cielo di Roman Gheri, la storia di un amante degli elefanti che in un paese dell'Africa comincia una battaglia per difendere questi animali. In verità questo diventa un percorso di indipendenza e di libertà. Ma com'è particolare questa cosa? Perché Davide Sannazzaro ci ricorda Le Radici del Cielo e noi abbiamo parlato, ma nemmeno due ore fa, di questo libro. Ma non scherzare! Insieme con Anna Folli a proposito di un altro libro che Anna Folli ha scritto, il libro intitolato Ardore, dedicato a Roman Gheri e Jean Seberg, una storia d'amore ed è la storia dello straordinario amore tra Roman Gheri, questo scrittore, che è da conoscere, l'attrice Jean Seberg. Belle queste coincidenze, veramente molto belle. Grazie Davide Sannazzaro e buona giornata. Prego, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.